Tanta gente invece in piazza a Prebiscito, a Napoli per la manifestazione del primo maggio, organizzata dalla Confederazione dei Sindacati Autonomi, un fronte del lavoro unito per affrontare i temi caldi dell'occupazione del nostro paese, il mezzogiorno, i giovani, la sicurezza, il PNRR, i salari nei settori economicamente più deboli, a non ultimo la pace. Così il segretario generale Confsal, sentiamolo. Siamo qui ancora una volta per rilanciare la centralità del lavoro e richiamare l'attenzione sulle grandi questioni che attanagliano il mondo del lavoro. Mezzogiorno, scarso sviluppo, la questione giovanile e la drammatica piaga delle morti bianche sul lavoro. Quest'anno si aggiunge l'attenzione sul dramma umanitario rappresentato dalla guerra nel cuore d'Europa dove dobbiamo essere capaci di sostenere ed essere vicini al popolo ucraino e nello stesso momento di spiegare un'azione politica che porti a un negoziato, a un cessato di fuoco e con esso a una pace per la convivenza fra i popoli. Grazie a tutti.